Tutto pronto per il Merano Wine Festival, è la 32esima edizione, l'Abruzzo ormai da qualche anno ha una collaborazione consolidata. Dall'anno scorso in realtà siamo diventati protagonista all'interno dell'evento più cool del mondo del vino e non solo a Merano. Saremo protagonisti con lo spazio dedicato all'Abruzzo dove ci saranno i nostri produttori, saranno degli show cooking con degli chef, saremo protagonisti con il sistema dei nostri istituti alberghieri che faranno il servizio di sala per tutto quanto il Merano. Un coinvolgimento generale dove andiamo con un modello con il brand Abruzzo, andiamo insieme alle Camere di Commercio, ai Gall, in un unico progetto dove andiamo a promuovere l'Abruzzo, le sue eccellenze, le sue tipicità. Soprattutto nel segno della sostenibilità, come recita il claim ormai di Merano Wine Festival, è obiettivo che persegue l'Abruzzo nella sua agricoltura? Questo è un po' l'elemento su cui noi stiamo cercando di caratterizzarci, sostenibilità a 360 gradi. Noi cerchiamo di valorizzare quello che è il dato ambientale e anche le misure del nuovo CSR sono caratterizzate con più del 50% su questo tipo di interventi che poi devono generare quella che è la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale di tutto quanto un sistema. Le nostre aziende, i nostri produttori si stanno spingendo sempre di più su queste forme proprio perché c'è non solo la necessità del rispetto di quello che è il quadro ambientale di riferimento ma anche e soprattutto perché c'è un mercato che oggi tra le mille difficoltà in realtà chiede prodotti che siano frutto di questo tipo di aziende, di questo tipo di attività. Sostenibilità rispetto ambientale potrebbe essere anche la chiave di volta per resistere ai cambiamenti climatici, adeguarsi e magari anche a altri aspetti tipo la peronospora che quest'anno ha fatto registrare un bel flagello per la viticoltura abruzzese. Purtroppo i cambiamenti climatici sono uno di quegli elementi su cui si combatte a 360 gradi e ovviamente l'agricoltura ne risente più di altri proprio perché è direttamente interessata a questo tipo di elemento. Insieme ad altri interventi legati alla mitigazione del rischio geologico, a quello che può essere la difesa del suolo, diventa un elemento importante proprio per caratterizzare quello che dovrà essere l'ambiente e l'agricoltura del futuro. Noi cerchiamo di anticipare questi processi proprio per resistere e soprattutto crearci quell'elemento di opportunità partendo da queste basi.